Salve a tutti, volevo mostrarvi una funzionalità che ho notato su Google cercando oltre il Roma in pratica la possibilità di selezionare la data di viaggio che poi incide sul prezzo infatti ora se l'ho insegnato dal 30 ottobre al 32 ottobre vedete i prezzi 454, 166, 169 modificando la data del mio viaggio, se mi metto 10 novembre, vedete come cambiano i prezzi 103, 116, 123, è molto probabile che in un futuro magari quando una stanza non sarà disponibile o se sarà in over, la disponibilità insomma non c'è, magari potrebbe togliere un hotel dal listing attualmente non ho visto queste funzionalità anche se non ho cercato molto vi segnalo che ora mette 20 recensioni Google proprio a indicare che ha il servizio per fare le recensioni sempre per spingere i suoi servizi e cliccando sul prezzo vi mostra quello più economico ma mostra anche gli altri servizi che si possono utilizzare per fare il booking di questa struttura ad esempio questa struttura qui potete utilizzare booking.com, unitravel e altri buon aggiornamento a tutti